Musica Ciao Federica Ciao Cosa ci prepari questa sera? Preparata, pasta fresca La pasta fresca Quali ingredienti hai preparato? Farina bianca, uova, sale, olio Farina bianca come? Tipo 00 Tipo 00 E quali strumenti hai preparato? Andella, cremataglia, una pasta festa e la bilancia E la bilancia, perfetto E per quante persone devi preparare la pasta fresca? Per 6 persone E quindi che ingredienti hai bisogno per una persona? Una cosa Farina, giro zero E? E un uovo Per ogni persona un etto di farina e un uovo Va bene? Ok Allora prepariamo? Ok Quanta farina stai versando Fede? Quanta te ne serve? 600 600 grammi, dai Ok Perfetto Perfetto Benissimo Guarda il video Di Giulia e Paola E adesso cosa ti dice? Fai un buco e mezzo alla farina Benissimo Puoi farlo anche con la forchetta se vuoi Lo di sale Ok E adesso mettiamo le uova Rompila sulla tazza Lo metti sulla farina Sulla farina Perfetto Tutte 6 così Adagio Batti bene le uova Metti sopra la farina Pian piano Metti la sopra E impasta Ok Ok Cosa facciamo? Lasciamo riposare Per quanto tempo? Mezzo 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 Pieni la sopra così Ok Adesso prendo la sopra Che l'altra vena Pieni la sopra Pieni la sopra Pieni la sopra Spetta E preparato? I spaghetti I spaghetti Benissimo Ora cuciniamoli Pieni la sopra 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 Pieni la sopra